Cioè, dovrei rivelarmi all'umanità? Assolutamente sì! Questo mondo ha bisogno di te, Gesù. Come il tizio che non riesce a fare sesso ha bisogno di una distrazione. Ora sono prontissimo a fare sesso con te. Ehi, è il mio telefono? Io non sento niente. Quello là è John Astin? Non vedo nessuno là fuori. Scusami, adesso ho perso la concentrazione.